Sì ma devi rispondere, devi rispondere a sto punto, rispondo io, siamo qua, lo guardavi come se fosse, è iniziata l'intervista, no perché di solito inizi tu, allora mi sono impanicata, allora inizio io, allora siamo qui per Colorado, perché insieme condurremo a Colorado, io ritorno a Colorado dopo un anno, ho fatto delle ospitate perché stavo girando il film e Diego Batantuono mi ha rilasciato le chiavi di casa, quindi sono molto felice di ritornare, la mia quinta edizione è con me, c'è Diana del Bufalo che è una grandissima novità, entry, perché parla bene inglese, vuole sempre far sentire questo piccolo stacco, di qualcosa altro in inglese? Bene, e quando noi siamo arrivati, ci siamo chiesti quali altre novità ci potessero essere quest'anno, allora la grande novità è lei, che è molto ingombrante, non nel senso fisico. Grazie, invece sì, perché mi sono ingrassata, io glielo ho detto e lui ci sta calcando sopra, perché dice che sembra un Moby Dick, sembra che sembra una balena, sembra che sembra, si dice, mazza o... Hai fatto anche l'inno pro vegetariani? Certo, certo, no, ho fatto l'inno pro vegetariani, perché io sono vegetariana e l'ho detto alla... e infatti gli rompo un po' le scatole, si lo so, no, infatti, mangio un sacco di carne e io lo redarguisco, si può dire redarguir? Redarguisto è... Ma perché è chiesto se si può dire redarguire? Perché non so se era giusto il verbo, io sono un po' ignorante, ma lo ammetto, commetto di essere ignorante, sono una capra, mi andavo male a scuola, non mi andavo male a scuola, e quindi insomma, a certe volte, a certe volte mi... scusami, no, c'è un... Beh, se mangia carne, sì. No, vabbè, ma ragazzi, è veramente difficile, guarda, ti assicuro che non è semplice questa... questa convivenza, e io spero di farcela. Mmm... beh... beh... allora, beh, in tv chiaramente bisogna avere, no, un'idea bene di quello che si fa, e sul web puoi mettere, tipo, te che fai un video e fai... così, e lo pubblichi, e c'è chi vuole ridere, ride, se no, no, però, cioè, tipo, in tv non lo puoi fare, perché, insomma, ci deve essere anche un filologico. Secondo me sono dei mezzi un po' diversi, secondo me sono dei mezzi un po' diversi, non tutto quello che funziona su web può funzionare in tv, e viceversa, chiaramente, ma così come non tutto quello che funziona in tv può funzionare al cinema, quindi bisogna, secondo me, rispettare esatto certe connotazioni che ogni mezzo ha. Detto questo, ci sono persone particolarmente versatili, io, per esempio, lavorai con Frank Matan in un film, che ora lavorerà anche in tv, e che il cinema ha funzionato benissimo, e secondo me Diana ha lo stesso talento, quindi, insomma, sono proprio felice di essere qui con lei, poi ti dico, Colorado fondamentalmente c'è un assetto che è sempre quello, nel senso che è quello di far ridere con la comicità, ed è una comicità anche di tanti tipi diversi, per cui hai il visual, hai il monologo, hai una cosa che magari è più per bambini, e più la cosa figa di quest'anno è che abbiamo, vabbè, una band live sul palco, e in più una compartecipazione proprio dei comici stessi, quindi troverai sempre una sorpresa, magari nel pezzo di un comico entra un altro e poi entra scivolata un'altra ancora, quindi, insomma, c'è un po' un'aria da gita scolastica che ci sembrava molto figa, e che spero possa essere... Anzi, perché, perché, ecco, tu, tu, fai, dici sempre di questa, di questa band al femminile, ma nessuno parla dei ballini, mi dice, ho un ballino troppo carino, regà, eh, infatti, e mi sa che non c'era l'anno scorso, perché io le puntate l'anno scorso, mi sa che non c'era, è proprio carino, infatti, cioè, diciamoci, diciamolo anche, che i ballerini sono nuovi e siete che gran fighi. TV, Zoom, ti amiamo! Sì, ma non si rica sordomuti, eh? Ah, no! Cioè, TV, Zoom! Perché piace il fatto che è Zoom! Esatto, quindi zoomiamo. Grazie a te, sì. Grazie a te, sì.